Attraverso un'attività di individuazione fotografica è stato riconosciuto dalla vittima come colui che ha piccato l'incendio ad una struttura del lungomare gelese. La polizia del locale commissariato lo ha denunciato per danneggiamento a mezzo incendio. Destinatario del provvedimento è una 37enne. Sempre la polizia, nell'ambito di servizi di prevenzione e controllo del territorio, ha denunciato un gelese di 27 anni per danneggiamento e furto aggravato in edificio pubblico. Il ragazzo ha preso di mira il parcheggio comunale Arena. Un altro gelese di 41 anni è stato segnalato per un incendio di un'auto. L'episodio è avvenuto due giorni addietro. Devono rispondere invece di ricettazione di oggetti di provenienza furtiva un cittadino rumeno di 24 anni ed un gelese di 27, identica accusa anche per un 44enne. La polizia di Gela ha diffuso delle foto degli oggetti recuperati. Coloro i quali sono state vittime di furti in abitazione potranno effettuare il riconoscimento recandosi direttamente in commissariato. Il personale della Polizia Amministrativa Sociale dell'Emigrazione ha proceduto al controllo di 12 esercizi commerciali, ha effettuato 8 inviti per esibizione di documenti a titolari di esercizi commerciali e contestato 3 infrazioni al codice della strada. Controllati 187 soggetti di cui 39 sono risultati con pregiudizi di polizia, ispezionati 91 veicoli ed eseguiti 24 controlli al coltest che hanno dato esito negativo. Assieme ai vigili urbani è stato contestato un illecito amministrativo a carico di un 31enne istruttore di arti marziali perché esercitava l'attività in una palestra abusiva di Gela senza l'autorizzazione di pubblica sicurezza. La palestra è stata chiusa. Il proprietario dell'immobile è un uomo di 61 anni. Nel complesso sono state controllate 700 persone, esaminati 326 veicoli e passate alla setaccio le posizioni di 28 agli arresti domiciliari, di 11 sorvegliati speciali, di 4 liberi vigilati e di 18 alla detenzione domiciliare. Elevate 12 contravenzioni al codice della strada, 9 le persone sottoposte a perquisizione e a Niscemi la polizia ha arrestato Emanuele Fidone, 57 anni, per furto aggravato ed evasione. L'uomo, trasgredendo le prescrizioni imposte dalla regime della detenzione domiciliare, è uscito dalla propria abitazione per introdursi nei pressi di un fondo agricolo coltivato a meloni gialli lungo la strada provinciale 10, nei pressi di Contrada Corallo. I poliziotti hanno sorpreso Fidone, intento ad impossessarsi di circa 50 meloni che aveva già espiantato dal fondo agricolo e riposto all'interno di tre sacchi di tela che stava per caricare a bordo della propria macchina. Dopo le formalità di rito è stato arrestato e poi sottoposto nuovamente ai domiciliari.